Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo video vi spiego come realizzare una sequenza di immagini in una sola figura quindi mettere più immagini e usare anche lo strumento di cornice quindi in questo caso come puoi vedere ho realizzato così un quadro con tante immagini dentro grazie allo strumento cornice non è affatto difficile è molto semplice non ci vuole niente a imparare questo bellissimo strumento che ci permetterà di creare veramente tantissime cose quindi iniziamo prima ad aprire il nostro photoshop questo è il photoshop nuova versione 2023 con l'intelligenza artificiale quindi andiamo a prendere un'immagine qualsiasi oppure possiamo creare una nuova immagine io preferisco di più prendere un'immagine che ne so un mio sfondo del desktop questo è più disponibile va bene allora andiamo a creare sul nuovo quindi larghezza 1920 altezza 1080 io per creare quell'immagine ho fatto direttamente un 1000 e un 1300 ed eccolo qua quindi adesso non ci resta che cliccare sui tre puntini e qui troverete tutti gli strumenti che vi possono servire oppure se avete già lo strumento cornice qua sopra usatelo e cominciamo a creare un bel po' di quadrati selezionare così un punto dove inserire l'immagine quindi strumento cornice inizierei prima a mettere un quadrato qua potete anche fare un cerchio quindi in questo caso io faccio un cerchio guardate un po' esce un cerchio ok visto che non ci serve il cerchio il cerchio è più per chi vuole fare un logo quindi potete fare un logo con questo strumento cornice fate un cerchio ci mettete la vostra immagine dentro e potete ritoccarla quindi con questo quadrato e ci inserisco così un'immagine e ci metto ci metto questa città vado a creare un'altra selezione quindi strumento cornice e ci faccio tipo così però un quadrato doveva essere un quadrato ed è uscito il cerchio eccolo qua e ci vado a mettere questo lago ovviamente in questo lago lo vedo molto dico molto luminoso quindi se vai a cliccare qua sopra fai due clic qua sopra basta che esce questa queste linee blu con il quadrato vai su immagine regolazione luminosità e da qui puoi aumentare la luminosità o abbassarla e aumentare il contrasto ora andiamo a fare un'altra selezione mi è uscito il contagocce strumento cornice e ci vado a fare una piccola acqua e ci metto la savana ci sta veramente molto bene la sotto bellissimo albero con il sole che sta tramontando dietro all'albero ed è veramente una bellissima cosa quindi andiamo a fare di nuovo uno strumento e ci vado a mettere un altro bellissimo rettangolo qua sotto e ci metto questo ovviamente come puoi vedere ti faccio vedere bene c'è questa linea bianca quindi ho avuto problemi anche a creare questo perché c'era questa fastidiosa questo fastidioso spazio quindi va fatto così bisogna cliccare due volte sopra clicchi sulla linea blu e lo sposti un po' più sopra andiamo a fare un'altra selezione e ci metto questo e ci mettiamo la montagna un altro strumento ci metto questa città e come ultima sequenza ci vado a mettere la New York e andiamo a metterci New York ed eccolo qua abbiamo creato così un quadro con tante immagini dentro un'altra volta io adesso questo me lo salvo però nell'immagine c'è uno spazio bianco questo spazio bianco ed eccolo qua da lontano vabbè si vedeva uno spazio bianco infatti si vede uno spazio bianco quindi meglio se zoom per vedere meglio questa è l'immagine la metto un po' più qua ed è perfetta questo invece è un po' troppo luminoso immagine luminosità contrasto più scuro saturazione ok quindi se questo video ti è stato utilissimo su come fare queste figure in una sola immagine quindi ridimensionarle ridoccarle cambiare un po' il colore e se hai problemi commenta per salvare questa immagine vai su file esporta come jpg e fai esporta la salvi dove vuoi ed eccola qua non è niente male quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial se avete bisogno di un altro tutorial su photoshop c'è una playlist in alto a destra oppure alcuni video su come fare moltissime altre cose come togliere lo sfondo fare altri ritocchi oppure togliere delle macchie oppure altre cose che danno fastidio sull'immagine e volete rimuoverle ci ho fatto dei video tutorial sopra quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo nel prossimo video ciao